Ragazzi mi comunicano dalla regia che un ragazzo su tre che guarda questo video non è iscritto al canale quindi mi riferisco proprio a te sappi che sei il benvenuto qui nella nostra community fantacalcistica mandiamo la sigla Ciao a tutti ragazzi bentornati da Carmi Special come è richiesto da voi ho abbassato leggermente il volume della sigla spero si senta meglio non vi sto nelle orecchie come prima vi ricordo le tre regole della nostra guida al fantacalcio un bel like come supporto al canale poi un commento qua sotto con la vostra opinione dopo averlo visto tutto magari velocezzato dipende magari la durata e il tempo a vostra disposizione e poi di passare da tutti i link che trovate in descrizione molto utili tra i quali c'è quello per scaricare OneFootball l'applicazione che vi terrà aggiornati su tutto il mondo del calcio è gratuita la potete appunto scaricare dal link qua sotto in descrizione e soprattutto per le notizie di calcio mercato che per i fan d'allenatori sono essenziali per capire un po' che acquisti potremmo fare la prossima stagione mi raccomando vi sarà appunto molto molto utile il link come detto qua sotto in descrizione oggi di cosa parliamo? parliamo dello studio e vi mostro anche la nuova presentazione appunto che ho preparato per questa puntata eccola qui eccola qui oggi sul verde anche per stare un po' più in sintonia con la grafica qui della webcam quindi spero appunto sia magari credita anche questa colorazione e andiamo a vedere i temi di oggi appunto come detto l'argomento è lo studio per l'asta ho già trattato questo argomento negli scorsi anni è un consiglio che do a tutti è di recuperarsi le vecchie guide sia ai fan d'allenatori esperti sia a quelli meno esperti siccome io cerco di non essere un po' troppo ripetitivo negli altri anni vi consiglio di andarvi a recuperare le vecchie guide perché appunto magari ci sono altri consigli mescolando il tutto potrete avere una preparazione ancora maggiore ok? vi sono servite quelle guide vi servirà anche questa quindi mi raccomando mescolatele tutte va bene? detto questo andiamo a vedere i temi e gli argomenti che vi ho preparato allora partiamo qui il classico movimento di tentine con ciò che serve per studiare l'asta ma non dal punto di vista materiale ciò che serve nel nostro diciamo intelletto nella nostra mente serve un po' di umiltà ragazzi umiltà per mettersi in discussione infatti non dovremo considerarci già pronti già consapevoli e soprattutto non dovremmo avere quella presunzione di conoscere già alcuni giocatori ok? dobbiamo comunque sempre mettere in discussione ciò che conosciamo a livello fantacalcistico proprio per questo diciamo questo episodio sarà ancora più utile per chi ha già fatto magari il fantacalcio negli scorsi anni anche per chi l'ha vinto per darvi una sorta di batossa morale di mettervi sull'attenti per i prossimi anni ok? magari per chi è inesperto forse saranno ancora più utili invece i vecchi video quelle delle scorse guide ma questo di qui vi sarà ancora di ulteriore diciamo consiglio ecco ancora più utile vi sarà anche la curiosità verso tutto cioè praticamente tutto qualsiasi notizia di calciomercato verso giocatori di serie A qualsiasi notizia sulle varie formazioni su idee di gioco degli allenatori vi sarà davvero utile quindi cercate di essere molto curiosi da questo punto di vista di raccogliere più informazioni possibili da varie piattaforme da vari siti cercate veramente di aprire la vostra mente a qualsiasi informazione e infilarla nel vostro cervello tranquilli che c'è abbastanza spazio poi passiamo invece alla pazienza la pazienza là ragazzi bisogna avere pazienza perché molti quanti di voi mi stanno chiedendo quando usciranno i consigli sui giocatori calma ragazzi calma siamo al 13 d'agosto ok siamo al 13 d'agosto e ancora c'è più di un mese prima dell'inizio del campionato il calciomercato ufficialmente non è ancora iniziato e già mi è stata tartassata con i nomi calma c'è un tempo per tutto preparatevi prima su alcune cose adesso vi andrò a sottolineare e poi appunto capirete quali giocatori magari puntare però tutto va fatto con calma e soprattutto appunto pazienza mi raccomando poi bisogna avere anche una criticità oggettiva cioè non dovete farvi prendere dalla vostra diciamo passione magari per una squadra di serie A oppure per qualche giocatore soprattutto magari perché vi ha fatto bene una stagione allora ci siete affezionati dovete essere comunque oggettivi cioè se quel giocatore è in calo in palese calo dovete comunque cercare di essere abbastanza critici con lui sia in positivo sia in negativo cioè cercare di capire un po' il tipo di rendimento e soprattutto fare un pronostico come detto oggettivo sulla stagione che potrebbe fare un giocatore o anche una squadra di serie A mi raccomando più oggettivi possibili passiamo adesso a invece guardate qui con lo studio della Lega molti diranno perché che intendi della Lega sì dovrete studiare la vostra Lega beh ovviamente per chi magari ha inizio diciamo è iniziato adesso il fantacalcio quindi sarà si troverà magari in una nuova Lega avrà un po' più difficoltà quindi deve cercare di raccogliere più informazioni possibili sui fantallenatori su come si sono comportati in passato e così via ma chi fa il fantacalcio ormai con gli stessi fantallenatori questo studio può essere fatto ancora in maniera più approfondita e più dettagliata e più efficace soprattutto infatti si può andare a fare l'analisi della classifica e dell'andamento delle squadre quindi capire come quei fantallenatori che tipo di stagione hanno dovuto affrontare di recente che tipo di andamento hanno avuto che tipo di formazione magari andavano a schierare quando si trovavano in difficoltà la classifica quindi per capire quali fantallenatori saranno più vogliosi di riscatto quelli invece che si sentiranno già campioni perché hanno avuto degli ottimi risultati quindi cercate di capire anche lo stato morale dei vostri avversari i prezzi dell'ultima asta ragazzi importante se avete già fatto un'asta e soprattutto avete materiale o cartaceo o comunque pc con i prezzi delle ultime diciamo delle recenti aste vi saranno molto utili perché potrete già prevedere super giù l'andamento della prossima asta a livello almeno di prezzi dei top semi top e così via e quindi capire un po' come muovervi per ottenere determinati giocatori ok quindi attenzione conoscendo anche il tipo di diciamo di approccio che hanno avuto i fantallenatori in relazione ai prezzi potrete anche essere ancora più preparati quindi questo studio è importantissimo poi soddisfazioni e bruciature altrui come vi dicevo prima conoscere i fantallenatori che dovrete affrontare vi permetterà anche di capire che stato morale appunto avranno e quali magari soddisfazioni si sono tolti magari nelle ultime anni cioè quei pupilli che sono andati a prendere vi faccio un esempio palese perché molti mi chiedono poi di fare degli esempi ve lo faccio subito qualcuno ha preso Kulusevski quest'anno ecco è probabile che ci si sia affezionato e che lo rivolrà nella propria fanta rosa quindi vi potrete anche aspettare che quel fantallenatore su Kulusevski punterà abbastanza crediti ok quindi già è una previsione che potrete fare solo se appunto studiate con attenzione la vostra lega la stessa cosa potrete fare con le bruciature cioè quei magari i fantallenatori che hanno avuto diverse delusioni su alcuni giocatori e su alcuni soprattutto reparti potrebbero essere magari vogliosi di cambiare strategia riguardo a quei giocatori o quel reparto e quindi cambiare strada quindi potrete anche lì prevedere magari un andamento della loro asta quindi attenzione poi per quanto riguarda invece il precampionato delle squadre del cuore altrui cioè vi ho sempre detto che bisogna conoscere un po' che il tifo ecco dei fantallenatori avversari ecco il precampionato in più è una cosa diciamo che in genere condiziona anche un po' l'asta perché quelle partite che avvengono prime prima ad esempio adesso c'è l'Inter che probabilmente facendo bene magari in Europa League i tifosi interisti saranno più vogliosi di andare a prendere i vari Lukaku i vari giocatori che faranno bene adesso in Europa League quindi tutte queste partite magari soprattutto se ad esempio anche l'Atalanta fosse andata ancora avanti in Champions stesso discorso poi le partite altre che ci saranno qualche piccolo amichevole potrebbe condizionare molto l'asta quindi cercate di capire sia il tifo dei fantallenatori e analizzare anche il precampionato in vista del prezzo che potrebbero avere poi i giocatori all'asta condizionando appunto magari le intenzioni dei fantallenatori quindi attenzione dopo lo studio della Lega va fatto anche lo studio della scorsa stagione infatti l'analisi delle statistiche della scorsa stagione è importantissima l'abbiamo fatta anche un po' insieme durante le live su Carmi Special TV ve lo appunto abbiamo fatta un po' insieme cercando di capire anche le top and flop li abbiamo analizzati in live ma vi ho portato anche dei video con i top and flop tra l'altro bisogna fare anche un collegamento al regolamento cioè quando analizziamo le statistiche come vi ho fatto appunto con il file che vi ho rilasciato qualche giorno fa bisogna anche capire quali giocatori in base al regolamento che avrete voi al fantacalcio potranno essere comunque utili cioè se io capisco che quel giocatore ha preso una buonissima un difensore ha preso una buonissima media voto capisco che mi sarà probabilmente utile per il modificatore o meglio che è stato molto utile per il modificatore perché ovviamente io non è che dovevo andare a scegliere poi i giocatori che hanno fatto bene lo scorso anno ma devo andare a scegliere quelli che potrebbero fare bene il prossimo anno quindi attenzione a questa differenza ve l'ho messo appunto nell'ultimo punto i top and flop diciamo che l'abbiamo fatto insieme collegati ovviamente ai prezzi cioè capire quali giocatori magari hanno deluso nella scorsa asta soprattutto quindi in base a quanto sono stati pagati e capire quindi degli errori che possono essere stati fatti alla scorsa asta o comunque delle mosse che potremmo fare nella prossima asta in relazione appunto a ciò che è accaduto nella scorsa stagione ovviamente ragazzi questo lavoro già l'abbiamo fatto infatti vi ho sempre analizzato la top and flop che abbiamo fatto vi ho sparato qualche morale finale proprio per darvi qualche dritta a riguardo quindi vi ho aiutato anche io un po' in questo studio poi la comprensione dei propri errori passati appunto quindi fatti nella scorsa stagione quindi cerchiamo di riconoscere magari quali mosse col senno di poi si sono rivelate fallimentari quindi cerchiamo di fare una sorta di studio oggettivo anche delle nostre mosse sbagliate non solo di quelle azzeccate perché quelle azzeccate magari ce le ricordiamo soprattutto se abbiamo vinto magari è meglio soffermarci su quelle sbagliate quindi per cercare di non commettere gli stessi errori anche se non è mai facile riguardo soprattutto il pronostico sui giocatori e a proposito di pronostico poi ho messo il pronostico bozza su nuovi top e flop perché ancora presto ovviamente per fare un vero e proprio pronostico su chi potrà rendere bene e chi potrebbe flopare però se noi andiamo a cercare un po' il perché un giocatore ha reso bene o ha reso male durante la scorsa stagione potremmo magari ecco fare una piccola bozza di pronostico sul loro rendimento il prossimo anno quindi questa cosa ci è molto utile per andare diciamo a fare un inizio di studio cioè ancora magari non approfondito ma almeno darci qualche indicazione soprattutto appunto per quello che si è visto lo scorso anno dopodiché andiamo ad analizzare alcuni strumenti utili per lo studio dell'asta allora i video di giocatori su youtube molti odiano sta cosa dicono che non è proprio per nulla utile andare a vedere i video su youtube dei vari giocatori soprattutto quelli sconosciuti io ci metto unì cioè è vero che questi video vengono fatti ad hoc ovviamente vengono creati in genere con la playlist diciamo delle migliori giocate ok sono degli allies quindi le giocate migliori quindi i goal gli assist i dribbling le skill quindi di questi giocatori vengono tutti compattati quindi voi vedrete oggettivamente le cose migliori di quel giocatore ma attenzione non è detto che questa sia una cosa negativa perché alcuni giocatori già anche solo con le migliori giocate vi possono dare delle indicazioni cioè non è tanto ciò che vedete che deve condizionare il vostro magari la vostra analisi ma è come lo vedete cioè dovete cercare di capire se effettivamente quello che state vedendo è solo una misera parte comunque può diciamo essere una sorta di sopravvalutazione di quel giocatore o effettivamente quello che state vedendo può essere una sola una goccia veramente di un buon giocatore magari che poi può rendere bene questo vi faccio l'ultimo esempio è stato ad esempio con Malinowski l'anno scorso non è che io per informarmi anche su questo giocatore che fa ho visto anche qualche magari video e ho notato diciamo un'eccezionalità nel tiro nel tiro da fuori in alcune giocate col sinistro quindi ho capito che il potenziale c'era e soprattutto se avete una preparazione diciamo calcistica quindi potete analizzare calcisticamente bene un giocatore potete appunto poi fare un'analisi corretta ovviamente per i fanno allenatori giovani magari o chi non ha molta esperienza a livello calcistico di calcio giocato ovviamente queste analisi possono essere non proprio perfette quindi ci si può affidare magari a qualcun altro più esperto ok però nel mio caso diciamo queste cose hanno reso quasi sempre bene quindi forse non dico che ne capisco di calcio ma posso dire che almeno un pochino i video su youtube da questo punto di vista mi sono serviti ogni tanto però attenzione non vi fatevi esaltare ecco da sti delle giocate messe su youtube poi tutti i maggiori siti di fan da calcio e tutte le maggiori app di fan da calcio si ragazzi più informazioni raccogliete sui vari giocatori e sulle varie squadre meglio è quindi potrete utilizzare praticamente tutte le piattaforme perché magari anche fare una sorta di collage un po' un mix delle varie informazioni perché magari quel sito esalta un giocatore quel sito ne esalta un altro magari un altro sito vi mette sull'attend invece su quel giocatore potete fare un mix delle cose e cercare di avere una periferica un po' generale quindi non esaltarvi troppo per un giocatore magari nuovo del campionato stare un po' più equilibrati analizzando un po' tutte le varie diciamo analisi ecco studiando da parte cioè sfruttando ecco le varie analisi che vengono fatti su vari siti app scusate l'impappinamento però cosa abbiamo messo poi subito dopo dubitare diffidare dai punti precedenti cioè tutte quelle cose che vi ho detto ora sui vari siti sulle varie app anche sui video su youtube dovete comunque diffidare cioè dovete mettere ma aspetta non è che stanno un po' sottovalutando sto giocatore non è che lo stanno sopravvalutando non è che stanno sopravvalutando il fatto che l'allenatore lo utilizzi veramente in quel ruolo dovete iniziare a dubitare su tutto e diffidare ragazzi perché vi servirà vi servirà per non pagare troppo dei giocatori per non avere delle aspettative troppo grosse quindi non costruire poi un centro gamma di merda ad esempio con tutte le scommesse esotiche che poi magari non giocano quindi state attenti cercate di diffidare e dubitare su tutto quello che vi viene detto nelle varie guide online e in più e in più c'è la chicca c'è la chicca ovviamente i video dei carri special quelli che vi saranno ovviamente utili guarda da caso non l'ho messo prima dell'aspetto del dubitare o diffidare non so se ci avete fatto caso a questa cosa comunque mi raccomando supportate sempre tutti i video adesso ragazzi come studiare un giocatore eccolo qui la sorta di guida definitiva alla fine messa come ultima slide allora ovviamente quando io vado a studiare un giocatore devo cercare di avere una periferia a 360 gradi su quel giocatore e il tutto parte anche dalla squadra in cui milita ok quindi devo cercare di fare un'analisi di quella squadra appunto di appartenenza quindi per capire che tipo di rosa che tipo di campionato potrà fare che tipo soprattutto di modulo che viene utilizzato quindi devo cercare di analizzare al meglio quella squadra il rendimento che ho avuto in passato quali sono i punti di forza cioè i reparti di forza soprattutto lo stile di gioco un po' tutto ok poi devo fare un'analisi anche del posizionamento nel modulo del giocatore che voglio magari studiare quindi cercare di capire se effettivamente verrà utilizzato in maniera offensiva se verrà utilizzato in maniera invece arretrata e difensiva se verrà utilizzato spesso perché magari non ha ballottaggio quindi devo cercare di capire un po' tutto poi capire anche fare un'analisi sul possibile rapporto con l'allenatore questa è una cosa un po' complicata cioè devo capire se il tipo di allenatore ama quel profilo del giocatore quindi potrebbe sfruttarlo a pieno potrebbe magari metterlo sempre titolare oppure potrebbe alternarlo perché gli piace magari utilizzare le sostituzioni in quel reparto insomma dovete cercare di capire che tipo di rapporto potranno avere durante la stagione è un po' complicato lo so poi l'analisi invece sull'utilità in relazione al vostro regolamento cioè se quel difensore ad esempio voi nel regolamento avete il modificatore di difesa dovete capire se quel giocatore effettivamente potrà portare buone valutazioni abbastanza costantemente se invece un giocatore avete ad esempio non so qualche bonus particolare l'imbattibilità ad esempio dovete capire se quel portiere effettivamente durante l'anno vi può portare un buon numero di clean sheet ok quindi in base al regolamento che voi avete nella vostra lega dovete cercare di capire di fare un'analisi personalizzata per ogni singolo giocatore poi fare dei pronostici il pronostico sul rendimento della squadra cioè capire magari che tipo di campionato potrà fare che tipo di posizione quindi potrà raggiungere che ambizioni ha quella squadra e che tipo di gioco quindi potrà avere quella squadra anche durante tutto il campionato magari nella parte iniziale nella seconda parte insomma dovrete capire un po' tutto poi un pronostico sul rendimento invece del giocatore quindi una volta che nella maniera più oggettiva possibile ho analizzato tutti i fattori precedenti devo cercare allora questo giocatore quanti bonus mi può fare può fare 5 gol durante tutta la stagione qualche assist allora lo devo valutare tot e quindi posso fare anche un pronostico sul costo all'asta quindi in base anche agli altri fan d'allenatori conoscendo gli altri fan d'allenatori e la voglia che potrebbero avere di prendere quel giocatore quel profilo particolare allora potrete fare un pronostico di costo all'asta e capire se vale la pena magari puntarci o studiare magari una strategia per prenderlo quindi mi raccomando analizzate tutti questi punti e studiate bene mi raccomando ok anche l'estate noi studieremo sempre però per il fan da calcio ovviamente ragazzi detto questo spero vi sia stata gradita questa analisi sullo studio per quanto riguarda il fan da calcio la preparazione all'asta ovviamente poi ci sarà il video sulla lista degli obiettivi come stilarla al doc ok c'è un video in teoria anche degli scorsi anni però ve ne porterò una sorta di aggiornamento lasciate come sempre un like e un vostro parere qua sotto mi raccomando vi ricordo che è ancora attivo il nostro contest ragazzi cioè il contest ancora attivo dove potrete anche vincere una maglia grazie quindi andate sul canale youtube cioè vi regalo una maglia c'è quel video fatelo arrivare anche a 1000 like partecipate con le indicazioni che vi lascio in quel video e provate appunto a vincere ragazzi ok se arriva a 1000 like quel video io vi farò un altro contest quindi ve ne regalerò un'altra mi raccomando passate anche dal nostro store link in descrizione così come trovate il link per scaricare OneFootball il video oggi è durato abbastanza è una sorta di video lezione max spero vi sia stata gradita come detto vedete questo ci vediamo domani ok e tra l'altro domani forse faccio anche una live ignorantissima nel pomeriggio se saremo anche Bobrilli vedremo vedremo ciao ragazzi dai da Carmi Special è tutto ciao